Sono tornate ieri le salme di due delle vittime italiane accompagnate dai familiari accolti a Ciampino dal Presidente della Repubblica. Ieri pirati. Due famiglie viaggiano insieme sul grande aereo grigio dell'aeronautica militare, unite da un dolore. Un viaggio a tappe forzate, quello per riportare a casa i corpi di Bruno Gulotta e Luca Russo. Barcellona, Roma, Verona, dove le strade delle due famiglie in punto si separano. Una verso Legnano, nel Milanese, dove Gulotta viveva e lavorava. L'altra abbassano dei grappa, il paese di Luca Russo. Nella notte il poing arriva a Ciampino a salutare in silenzio i due ferretti coperti da altri colori. C'è il capo dello stato Mattarella. Le famiglie delle due vittime di Barcellona scendono assieme alla scaletta dell'aereo. C'è la moglie di Bruno, Martina, con i due figli piccoli. Quello che è lei stessa, con un gesto rapido strappato dalla traiettoria dell'invisitore, è la bimba di un anno, che come giovedì sulla RAP la porta in braccio. E ci sono i familiari di Luca Russo, la sorella Chiara, che per prima ha comunicato la volontà della famiglia di donare gli organi della vittima italiana più giovane, solo 25 anni. Dopo l'autopsia a Roma, per ragioni d'inchiesta, i ferretti e le famiglie ripartono per l'aeroporto militare di Verona. Prima che le strade si separino, un abbraccio lungo e intenso tra le donne e le due famiglie rompe il protocollo normale. Luca torna a Bassano, dove i funerali si terranno probabilmente venerdì. Marta Scovazzone, la sua fidanzata rimasta ferita, tornerà in Italia forse domani. Bruno invece torna a Legnano, dove per due giorni da domani sarà l'ulto cittadino e il pomeriggio di domani l'ultimo saluto anche per lui. Ci fermiamo qui, come dicevamo...